Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Parkrai 6 Episodio precedente veramente molto triste, triste, perché fondamentalmente è morto il tigre Penso che tra i personaggi era quello più rappresentativo e mi è dispiaciuto che sia morto Comunque andiamo avanti, andiamo a parlare con Elena Ok Ok e qua non c'è un mail il tigre il tigre di qua di qua dai credo che c'è qualche problemino facciamo così guarda è andato è andato ok che è successo ci siamo schiantati i guerrieri stanno dentro credo a di coche ciao ragazzi signora è meglio che esca è scarsa eh è scarsa decisamente nonno ragazzi però tutti a morire no però eh stiamo a reanimare tutti quanti almeno datemi una mano però io gioco in a raffineria stiamo irrompendo devo a scassare qualcosa no che mi devo curare aspetta mi cura dai che è meglio ma sono solo come una faccia di vedere che c'è una dottorissa ecco 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 Ma questo? Ok, questo si rompe Penso che faccia male? No Ok, che eriamo Sicuramente ora arriveranno i 150.000 A romperci le... E scadono Quella esplode, secondo voi, là Ma vediamo, eh Questa pensa che esplode, eh Come ha fatto a mollire? Andiamo? La facciamo così, guarda Mi inserisco e me ne vado Mi inserisco e me ne vado Mi inserisco Aspetta Arriva Ok Ok Fuggi alla raffineria E dove fuggi? Dove fuggi? Dove fuggi? Dove fuggi? Dove fuggi? Ripping? E non capisco E non capisco a dove cavo devo uscire Dall'alto non c'è niente Forse ci vengono a salvare Ok Che fancio? Eh arrivo, 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 arrivo No, non arrivo qui No Ed Rui Qu'un Che oh man i thought you were dead this shit has been really entertaining to watch seriously now if you don't mind i'm gonna call out my boy anton for more soldados because you gurihaz are really starting to piss my lemonade ma barca di quella miseria ma sta diventando l'uomo torce a manco muri fugga a fugga andiamo andiamo ai 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 giacca tiratore momento allora qua ci sta ci stiamo migliorando fatto poi sblocchiato pure una fantastica un fantastico arco dobbiamo vedere se poi lo possiamo utilizzare perchè non sarebbe male però io lo metto dai eventualmente vediamo se lo possiamo utilizzare infatti andiamo a parlare con la kimama sempre molto pessimista che è? ah ah guau un lì un po' un po' un po' un po' un po' un po' in 67 we kicked them out for decades you could breathe the air then espinosa started to sell off our industries then anton took over he opened the door for that yankee mackay his operation produces the poison needed to make viviero and the pipeline here is a vital part of that cancer treatment lorenzo showed me the photographs you took of their research disgusting so yelena and i came up with a plan to cripple production of castillo's wonder drug think of that yankee's main chemical plant like a heart and all these pipes are like arteries cut the arteries and the heart goes into a catastrophic state so follow the pipes danny destroy the substations and you'll create a pressure overloaded the plant that's when yelena will access their computers and will be able to kill mackay's poison operation for good sembra facile tarco chirurgico scendo di qua nuove foto ok ma due foto c'è mandato di seguire il condotto per passeggio la cala grado poi posso colpire in tutto le valvole and rome serbato io giallo del pg 240 va bene che succede una funzione facciamo una cosa guarda proprio adesso che mi volevo volevo utilizzare non la posso utilizzare guarda un po guarda un po niente penso che si sia rotto no ok per stop station down ok devo seguire il condotto ok devo seguire il condotto è un po' sforescente non so se c'è gente qua ma pensa di sì questo serve essere mentre le bestie strane di urlare allora questo è il nostro idemma anche questo ma che serve sta roba qui la è morto e dove va l'altro ma che sta succedendo lo che raggiungi lo stabilito ah è la vai è morto guardalo guapo guardalo guardalo guapo che prezzo buona è stata sempre a telefonare ma chi è perché accetta al computer se mi dici dove sta il computer forse vediamo di capi uuu wapo wapo dove cavolo sta al computer wow wapo ok il computer l'abbiamo individuato arrivo arrivo fai momenta arrivo ok quanto siamo? 22 a 100 se arrivano da qua li ammazziamo me ne vado? usa i pannelli per fai che? aia ok ando lì 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 oddbocca e' un altro simbolo ah sa fa era tu il backpack? era meglio con te sei finito ok ok senti questo backpack? e' un po' ok Dani siamo quasi pronti hai distrutto questo massimo backpack e' un flusso il flusso il flusso il flusso il flusso il flusso? che cosa è questa? è in l'allia l'ho aiutato da lui deve essere già là dove cavolo sta? insomma qua questi elicotteri ci hanno proprio rotto fammi capire che da qua non mi puo vedere che c'ha la vista raggi un altro palettino che ci può fare scappare non importa eh stavo già sparando e che lo dico è un po' 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 ok eh aspetta vediamo avanzare con questo allora eventualmente questo dici? ah ecco forse è meglio fare così perfetto qua ok la signora è morta no? ah è ancora via sta scappando è ancora via fantastico via via è un po' è un po' è un po' è una cosa che si trova ok quindi adesso devo distruggere distruggere scorte di carburanti porca mettera è scorretto devi morire ti piacerebbe non morire ma purtroppo è destino allora di là riusciamo a beccarla qua giù aspetta che poi penso che la pace andiamo 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 se riusciamo a pass per passacorsa felice felice è andato manca soltanto questo è assaltare in aria quando siamo alto vuoto vediamo che è dato 86 per cento che ci manca ancora questo pure quanta per cento che devo distruggere ancora ok non sta più niente ah pure il boom penso 95 ah pure il toque andiamo andiamo no ma mi lanciate le bombe che micchiazzo eh dai perché che mi stai lanciando le bombe dovrei un minimo assalto ma che assalto entro all'ingresso principale ok ok trova arriva arriva sta qua dentro cazzo eh no non mi toccate il cararmato che minchiava non mi fate entrare quello nell'ufficio dobbiamo bussare per entrare entro e basta quindi non saremmo entrati comunque zainetto nierda jelena mickey wasn't there the office was a fucking trap coño that intel came from a fucking traitor ii questo non sa sparare sai che l'abbiamo fermata eh pensa che l'abbiamo fermata no ma l'altra no però porca miseria aspetta ci manca anche l'altra mi stare facendo perdere tempo vado con la moto d'acqua che c'è l'aricottero no vai bravi ragazzi andiamo 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 dovrebbe essere più veloce io penso no ok ok l'ho preso l'ho preso dove salgo non c'è un punto di salita veramente è quasi dentro salgo dove salgo dove che stai facendo salgo sulla nave da carico è un momento aspetta un momento grazie grazie per il barco dove andate così ok è arrivato di qua a sinistra preso basta pure l'icottero sta in alto in alto in alto vedo l'icottero bastardo ok qua qui siamo ok ok Juan, il bagno è qui. Dani, la situazione ha cambiato. Non voglio sentire ora, Juan. Si, si, è un taglio di un uomo di un uomo di uomo. Ma abbiamo fatto un accordo. McKay offre un tono di cash se non lo farà. Abbiamo parlato di reale, Dani. Noi che Clara è buono con questo. Io e io con Clara. Tu e io both conosco, la reale guerra inizia la prima volta Castillo dies. E tu non puoi vincere la guerra senza cash, credo. We've been doing pretty good with bullets. Leave him alone and head back to the port. I'm on my way there now. It's time to celebrate. We won! Ma è come il momento di passeggiare? Lascia stare e torna a real. Go on, backpack. Go, go, join the fiesta back in the mainland. I'm sure they're gonna have a piñata set up and everything for you. I'm thinking. Se ci dicono così, non vuole che magari cambiassi qualcosa. è questo. Neleste para sempre, Dani. Yelena! You want me to believe in the cage's floated away? Libertà deserves you. Let's hear it for Dani! You should say something. I've given enough speeches. Then I think it's only appropriate that I... You're at your time, Lorenzo. Lucky. Okay. Today, for the first time in my life, I actually feel lucky. When I look into the eyes of your generation, I see the same fire, the same passion, the same hope I used to see in mine. Together, we have the chance to create something new. It's your turn. Let's make this Yara's last war. La Moral. Legends of 67. Bienvenido, Celeste, Clara. Welcome to Libertà. Gracias, but no. La Moral's good on its own. Is that right? We'll help you kill Castillo, but we'll also keep an eye on Libertà. You want me to trust this wrinkled abuelo to fix our Yara? No. We fight. We don't follow. I like this one. That's two of us. See you in Esperanza. I know there are many who speak of the old revolution of 67 like a dream, that these murderers were heroes. They will destroy your future, just as they did my fathers. When I look into your eyes, I see lions. Libertà. La Moral. Murderers of 67. These are lies. The truth? They are all known by the same name. Terrorista. I have a vision. To rebuild paradise. But these terroristas have made sure the cost of paradise will be blood. Let this be Yara's last revolution. Let us claim victory to the liars. The truth? The truth? The truth? The truth? What do you do here? Che strano Fadi elettrici Spariamo Una micetta pure io Ok Giusto per Ok ragazzi Anche questa parte penso la possiamo terminare Vediamo se vai passare io Vai